Musica Eccoci tornati in diretta ed eccoci pronti alla fuoricorsa di questo giovedì 14 marzo andiamo da Mirko Frati che ci sta aspettando a Monsumano Terme in provincia di Pistoia Mirko ben ritrovato Buongiorno ben ritrovato Emanuele ci hai dato la linea e sta arrivando anche il sole quindi Emanuele Cardona porta il sole in quel del Cintolese in zona Monsumano Terme Cintolese provincia di Pistoia siamo qui al centro all'allevamento Fonte degli Angeli un allevamento ormai conosciuto sia da noi che da tanti appassionati per chi non lo sapesse è comunque il centro di proprietà della famiglia Meli che insomma vede all'interno un po' di professionisti un bel po' di cavalli ci sono i cavalli sia da trotto che da salto c'è tutto qui all'allevamento Fonte degli Angeli oggi siamo venuti a trovare un nostro amico che abbiamo già disturbato in altre occasioni ma lui è sempre disponibile quindi lo ringraziamo e ovviamente qui con me Andrea Baveresi buongiorno buongiorno a tutti Andrea ovviamente qui al centro è un centro Andrea che insomma dove tu hai vissuto dal punto di vista professionale per tantissimi anni anzi è quello è magari il collegamento che parte dal passato fino ad oggi la costante è sempre stata assolutamente la costante è sempre stata l'allevamento perché ormai sono sono 30 anni che sono qui quindi la storia per te è professionale tutta qua praticamente direi di sì ecco come si fa nelle pubblicità no Andrea quando si parla di Andrea Baveresi professionista dal ormai quanti anni sono? 1980 per te vicino al pensionamento no no non esageriamo non esageriamo Andrea tu sei ovviamente toscano doc fiorentino giusto di anni di nascita no pratese pratese quindi di prato da dove nasce ecco dall'inizio la tua passione per i cavalli e come ti sei avvicinato al mondo dell'ipica un animale mi è sempre piaciuto a casa quando ero ragazzino mio nonno aveva un cavallo un cavallo da passeggio da passeggiata io mi sono avvicinato ai cavalli al mondo dei cavalli così poi dopo ho intrapreso gli studi però non ero molto ferrato ferrato in tutti i sensi allora hai deciso di sì l'estate andavo all'ippodromo e ho cominciato a lavorare l'ippodromo di Firenze? le mulina? è ormai per tanti professionisti del della insomma Toscani è stato il quello che ha fatto sbocciare poi la la passione e la vita lavorativa assolutamente e poi dopo niente ho cominciato hai iniziato a fare un po' di lavoro ho fatto l'artiere anche perché io in famiglia non avevo nessuno che era nel mondo dei cavalli sì che ho cominciato da artiere e ho fatto tutta la scala tutta la trafila la gavetta l'hai fatta per chi per chi ha iniziato con quali professionisti? ho iniziato con Fosco Lunghi ok e poi dopo ho continuato anzi è quello che mi ha dato diciamo le chance maggiori con Gabriele Baldi e poi niente sono messo per conto in queste appunto in questa lunga lunga attività e professione hai deciso poi a un certo punto di prendere insomma di metterti di metterti in proprio e lì è iniziata la tua la tua storia fatta di insomma di un po' di tanti buoni cavalli ci sono durante la tua attività di allenatore di guidatore ci sono non si può dire tanti cavalli che hanno segnato la tua la tua carriera molti e buoni anche i primi i primi cavalli che ti hanno magari lanciato sul diciamo nel panorama ippico quegli migliori sono Lubrogym Cucu di Esolo poi dopo Ucondon quello è il massimo tra l'altro abbiamo cercato negli archivi abbiamo una foto tua con Ucondon capelli al vento casco al vento quella è una foto vecchia e quindi è stato anche lui un cavallo che ti ha dato lui è stato un campione perché è un cavallo che 30 anni fa faceva i tempi che si fanno oggi perciò oggi non so cosa avrebbe potuto fare cavallo fantastico con lui poi naturalmente i cavalli dell'oscuria bello sguardo ci sono stati un po' di cannoniera tesiano gas superbo capare insomma eh sì ogni tanto quando vengo qui quando veniamo qui ecco vediamo in in scorrimento alcune foto che che ritraggono appunto Andrea in in sulchi tra un pochino secondo me spunterà anche Andrea Ucondon ma ecco qui quando veniamo quando veniamo eccolo qua con con anche il dottor il dottor Guasti il tuo il tuo gentleman di appartenenza di affezionatissimo e e dicevamo ecco quando si viene qui ovviamente un salto lo faccio spesso perché mi piace nella nella casa nella nella casa padronale se così si può chiamare vecchio stile dove ci sono appunto tanti tanti trofei e tante e tante coppe abbiamo visto proprio abbiamo visto proprio Ucondon eh ti come ti riconosci cioè come ti piace ti ricordi sono dei bellissimi ricordi e appunto entrando nella nella casa padronale ci sono tanti trofei tante tante foto anche di Andrea eh che eh ritratto magari con con i cavalli che hanno fatto la storia della della scuderia Bello Sguardo e comunque cavalli che ti hanno che ti hanno fatto che ti hanno dato tante tante belle soddisfazioni assolutamente mi sono levato tantissime soddisfazioni avevamo sempre molti cavalli vincenti come era nello stile di Cesare Medi eh ecco ehm hai fatto tutto quindi hai fatto l'allenatore hai guidato eh hai avuto successo sia come appunto allenatore che come guidatore passando il tempo hai avuto magari qualche hai una ha avuto qualche preferisci tipo l'allenamento la fase dell'allenamento oppure quella del guidatore c'è stato magari ogni cosa a un suo tempo secondo me ogni cosa a un suo tempo perché con l'età sinceramente preferisci forse allenare allenare mentre quando sei un po' più giovane un po' più svelto rampante quindi ti piace guidare quindi ecco nella prima parte forse avevi più voglia interesse a guidare e col passare del tempo ti sei un po' più specializzato anche anche se hai fatto sempre insomma tutte e due le cose sì ho sempre fatto tutte e due le cose però ti ho detto per tutte le cose c'è un tempo ecco fare già avere una scuderia e fare tutte e due le cose non è facile al giorno d'oggi forse era più facile prima sì o c'erano le stesse problematiche le problematiche c'erano però prima magari c'era più scuderie riuscivi riuscivi insomma a fare sia l'uno che l'altro ora forse non lo fai peggio che fai guidatore sempre in giro per tutta l'Italia assicché il tempo da dedicare all'allenamento diventa minimo è più difficile sì è più difficile ecco avendo vissuto come dicevi tu prima un po' di qualche anno di Ippica parlando appunto di Hong Dong che magari proiettato nei giorni nostri non si sa cosa avrebbe potuto fare cosa è cambiato secondo te visto che l'hai vissuta cioè che evoluzione c'è stata e che differenze ci sono magari nell'Ippica di un po' più di anni fa a quella a quella odierna ci sono state tantissime tantissime evoluzioni perché prima i centri di allenamento erano pochissimi rari i cavalli erano tutti in Ippodromo perciò il lavoro che potevi svolgere era quello che si può fare in un Ippodromo ecco poi dopo con l'avvento dei centri di allenamento è cambiato tutto l'allenamento dei cavalli lo star fuori poi tutto è migliorato l'alimentazione e anche proprio tutte le cose tecniche che ci sono ora l'evoluzione insomma è stata generale si parla spesso che oggi i tempi magari i tempi contano molto meno forse oggi è vero Andrea sei d'accordo? secondo me sono più relativi i tempi perché oggi una volta quando un cronometro si fermava sui due minuti su uno e cinquantanove era una cosa eccezionale oggi se fai due minuti uno e cinquantanove arrivi sempre ultimo quindi insomma forse è cambiato proprio anche in quello magari contano molto di più i parziali la distribuzione che il tempo prima all'età c'era più tatticismo oggi insomma si va più sempre a tutta quindi è un modo diverso di concepire sia la gara che proprio anche gli allenamenti hai fatto quindi con tanti cavalli appunto sicuramente risultati di prestigio ci sono magari delle tappe proprio della tua carriera che fisseresti come dire qui è stata veramente una grande soddisfazione questa quest'altra corsa mi ha dato grande gioia ecco ci sono magari due tre avvenimenti della tua carriera da allenatore e da guidatore che ti hanno segnato e che ricordi con piacere assolutamente sì in primis la vittoria della lotteria vincere una lotteria è una libidine incredibile poi dopo ho vinto il derby delle femmine con cannoniera e anche lì e in più ricordo volentieri anche nonostante i risultati non sia stato reclatante la trasferta in America con Cocu Di Esolo a fare l'International Trotto sono comunque appuntamenti che insomma già esserci è una bella cosa sicuramente e pensando alla tua bella carriera c'è qualcosa che secondo te ti è mancato che avresti voluto magari raggiungere che avresti sognato e ti hai riposto magari come obiettivo come sogno e che forse è sempre in tempo sì no come obiettivo non mi ero imposto niente mi ero imposto di fare bene questo lavoro e in parte ci sono riuscito direi di sì direi di sì quello è un obiettivo che ho raggiunto per il resto sai qualche gran premio buono mi manca sì che però qualcosina nel blocchettino con le spunte insomma l'abbiamo l'abbiamo penso sì però sai va bene così va bene così per arrivare ai giorni nostri con l'appunto la costante di questo di questo centro di allenamento Andrea comunque la scuderia continua i cavalli in scuderia vanno avanti ci sono e quindi dici un po' in questo momento quanti quanti effettivi hai una quindicina di effettivi per me sono già abbastanza è il numero giusto per poter lavorare sì che mi piace fare mi piace fare perciò al momento andiamo avanti così naturalmente sempre ricercando qualcosa di buono ecco quello che mi piace è domare dei puleri e vedere se riesco a trovare qualche cos'altro che ti dà magari un po' di grinta e di sprint per andare avanti i puleri comunque sono importanti qui ci sono i paddock che li vediamo un po' dietro di noi ci sono dei futuri cavalli da corsa qui ci sono se non sbaglio delle lettere andrea allevati dalla targati clà quindi allevati dalla famiglia della famiglia meli ci sono tre femminucce tra l'altro due sono figlie di superbo cavalli sono fatte in casa fatte totalmente in casa e poi le madri sono appunto cavalle che hanno comunque fatto la storia e corso per la scuderia bello sguardo più c'è una figlia di vividwise giusto di vividwise e della zeeman che è anche un'altra cavalla andrea che insomma è una del recente delle ultime cavalle che ti ha dato delle belle soddisfazioni belle ecco quelle me le ha date come allenatore perché già si adoperava che il catch drive eh vabbè comunque già anche appunto per uno che non è come hai detto tu magari in questo momento storico preferisci più vedere un altro che vince con il tuo cavallo contentissimo c'è qualcuno un po' più geloso magari non l'hanno fatto con me perciò non ritengo giusto farlo con gli altri giusto giusto e appunto in scuderia poi ci sono oltre ai puledri abbiamo visto comunque durante gli ultimi anni se siete riusciti si è riuscito a dare anche una tra virgolette seconda seconda carriera anche a dei cavalli che magari era già già avanti con gli anni perché comunque in scuderia avete cavalli tipo Urtab di Azzurra lo stesso Victorious Man che sono cavalli che che i proprietari insomma che hai hanno deciso di andare magari a prendere visto che hai avuto a che fare anche collaborando come con Eric Bondo quando era qui in Toscana sono cavalli che hai conosciuto ecco com'è andata in quel caso hanno fatto questi acquisti cavalli che avevano avuto una buona carriera però con dei problemi e allora hanno deciso di acquistarli e di provarci non sono andati male possiamo dire non sono andati male ecco diamo qualche visto che magari è un pochino Urtab di Azzurra è da novembre mi sembra che non corre magari diamo qualche notizia ai nostri amici che magari seguono cavalli che comunque quando sono andati in pista spesso hanno avuto anche una certa regolarità una continuità di risultati assolutamente sì poi questo qui era un cavallo che ha salito un po' di categoria con qualche suo acciacco gli ha dato un po' di riposo a un vernale allora d'accordo con i proprietari abbiamo deciso un po' di lasciarle tranquilli certo e invece victoriousman è un pochino che non lo vediamo abbiamo avuto un problema grave lo stiamo riatrezzando speriamo di riuscirci benissimo ovviamente poi uno dei cavalli che seguiti in questo momento è Ethan o Ethan come lo vogliamo chiamare a noi ci piace più all'italiano Ethan lo chiamano tutti così quindi lo chiamiamo Ethan è un cavallo e poi ne parleremo magari anche dopo più compiutamente con il tuo con Simone Levakovich che è ormai è l'interprete quindi ce lo facciamo raccontare però anche Ethan che è degli stessi proprietari di Urtab di Azzurra e di victoriousman anche lui è stato un cavallo dove insomma ci avete visto abbastanza lungo sì lì ci hanno visto lungo i proprietari perché mi hanno fatto vedere questo cavallo e loro sono andati a acquistarlo e direi che è stato un buon acquisto un bel colpo un bel colpo è un cavallo poi dopo ne parleremo magari più compiutamente ma è un cavallo che insomma fa fa ben sperare perché ha fatto vedere di avere velocità parziale un cavallo moderno perché ha dimostrato di essere insomma di avere sia parziale che anche cattiveria assolutamente ricordo anche una corsa tipo con con Ammannati che fu a Firenze fu bellissima all'arma bianca quindi non ha proprio un cavallo moderno che sa fare che sa fare credo sia veramente un buon cavallo che possa aspirare a qualcosa di buono concludiamo perché non c'è solo l'olipica ovviamente Andrea per te qualche passione oltre all'olipica ce l'hai perché fai me la faccia come no mi piace tantissimo il canto sei un tifoso? è un tifoso lo sa anche Emanuele anche l'altra volta quando parlavamo del grande Cesare Meli che faceva un po' come Cellino l'amato Cellino di Emanuele faceva con gli allenatori però ecco sei un tifoso di calcio quindi però lasciamo insomma non diciamo Emanuele si può anche dire Emanuele se vuoi intervenire comunque il Bavesi se l'avessero stamattina è un po' meno sorridente del solito perché ieri sera è successo un piccolo dramma sportivo ecco e vabbè c'è chi ride e c'è chi piange è la storia è la storia dello sport sono turno diciamo che tu hai pianto per primo Mirko è uguale bravo tu hai pianto per primo Mirko e piangerai probabilmente a fine campionato il buon Andrea invece ha avuto una delusione ieri però insomma lo scudetto dal petto non gli voleva nessuno Mirko una valle di lacrime Mirko una valle di lacrime cercavi la sponda da me Mirko no la Juve no Mirko no no lasciamo per ma quindi ecco se vuoi chiedere qualcosa non di calcio insomma come meglio credi no io volevo chiedere una cosa allora Andrea è un possiamo definirlo un decano no della nostra ippica nonostante sia giovane dentro e fuori però insomma di esperienza ne ha veramente tanta ha fatto cavalli importanti soprattutto ha fatto tanti cavalli importanti io vado ti faccio una domanda al contrario qual è stata la tua più grande delusione ippica il cavallo o il cavallo che ti immaginavi che diventasse fortissimo che non hai rispettato le tue aspettative oppure la corsa che vorresti che vorresti rifare ad alti ad alti livelli ma no la corsa che vorrei rifare direi non ci sono per quanto riguarda le delusioni dei cavalli una delle ultime sinceramente è stata Zirudela che credevo fosse una cavalla buonissima e invece poi alla fine insomma non siamo riusciti a fare quello che si sperava tanto motore per Zirudela però difficile cavalla difficile assolutamente molto difficile ma quella poi scusa Emanuele l'intervengo l'hai tenuta no no l'ho venduta è andata a razza ok quindi potrebbe essere un prodotto di Zirudela ci fai l'attenzione o hai la prelazione alla marotta l'ho già presa ok ha già comprato e poi l'ultima domanda perché siamo lunghi questo ci fa capire quanto lo dicevamo anche l'altro giorno quanto il trotto sia veramente una disciplina complicata molto complicata allenare un cavallo al trotto è veramente difficile a volte basta un nulla per cambiare la carriera di un cavallo anche un passaggio di training magari levare un po' di peso provare con un finimento in più ecco rispetto al galoppo qui c'è enorme differenza i cavalli al galoppo sono tra parentesi più semplici se un cavallo c'è c'è un motore lo alleni in maniera giusta poi la differenza la fanno sempre i grandi allenatori al trotto le varianti sono infinite sono infinite Andrea e non solo perché il trotto è un'andatura non naturale anche peraltro è un'andatura forzata perciò c'è una lampadina che si accende che magari ti fa cambiare il cavallo ecco e lo vediamo spesso delle volte cavalli che sembrano finiti oppure che soprattutto dal punto ecco dove è che un allenatore secondo te tu da allenatore no? dove è che un allenatore può intervenire maggiormente su un cavallo su un cambio di training secondo te su una ferratura sul carattere qual è quello secondo me che più oggigiorno oggigiorno secondo me è sui metodi di allenamento perché nelle ferrature sai oggi tanti cavalli ottengono il meglio correndo scalzi sì che la ferratura diciamo che va in secondo piano però il modo proprio di farlo di di allenarlo e di vivere potrebbe può essere una causale e sì e poi insomma Andrea Andrea è della vecchia guardia però poi bisogna sempre aggiornarsi è inevitabile prima si lavorava in pista tonda all'ipodomo assolutamente assolutamente oggigiorno se non ti aggiorni non vai dal punto e parti perché è sempre ci sono sempre tutte le novità giorno per giorno ecco e questo lo si vede quegli bravi riescono ad andare avanti ecco è certo è certo no perché sembra che qualcuno ha la lampadina la lampada magica no ma secondo me innanzitutto la cosa fondamentale sono il materiale su che lavorare perché se non c'è cavalli di genealogia di qualità non vai molto lontano poi devi avere quello quello è basilare poi devi avere gli strumenti quindi un centro adeguato quello è basilare se lavori su sicuramente sicuramente ci vuole oggi giorno ci vuole a tante componenti tante componenti un centro adeguato la qualità del materiale e poi secondo me l'alimentazione è un buon veterinario è un veterinario che venga che possa minire spesso in scuderia perché poi il cavallo non parla abbiamo bisogno noi uomini spesso ci svegliamo acciaccati però già sappiamo cosa prendere prendiamo una medicina piuttosto che un'altra un cavallo avere un veterinario sempre a disposizione secondo me è fondamentale anche perché ti ho detto i tempi sono cambiati e se che ci vuole proprio un'equip il cavallo è un atleta in tutto e per tutto siamo qui con Simone Levakovic buongiorno buongiorno a tutti siamo qui con Simone perché ovviamente abbiamo parlato con Andrea della scuderia però in scuderia praticamente Simone possiamo dire che sei cresciuto all'interno all'interno della scuderia di Andrea Baverezi no? dall'inizio cioè la tua carriera come hai iniziato? appena ho messo la terza media hai cominciato subito a lavorare con Andrea iniziai insieme a mio fratello la scuderia di Vivaldo Baldi sì che era la fine e poi ho cominciato subito con Andrea dopo un po' sei venuto qui perché anche tu praticamente sì ho cominciato a Montecatini all'ippodromo sì e poi ti ha trasferito ti ha passato di grado certo perché anche tu quindi possiamo dire che sei cresciuto proprio qui all'interno del centro la tua carriera è tutta è tutta qui dentro al Cintolese al Cintolese sei abbastanza sei abbastanza esperto la passione per i cavalli come ognuno ha la sua magari particolare che ti fa avvicinare a questo mondo tu perché sei dalla famiglia siamo partiti con i poni poi su su i cavalli e quindi il cavallo ha sempre fatto parte certo il podromo per te per Andrea è cresciuto con l'ippodromo Lemulina tu sicuramente sei cresciuto a Montecatini con Cesana di Montecatini quindi già da piccoli come me insomma a vedere a vedere le corse certo meglio i cavalli che la scuola è una costante ogni tanto insomma ci piaceva di più la scuola un po' più la corsa le corse ormai tanto non ci fanno più niente possiamo dire che ogni tanto a scuola abbiamo diciamo abbiamo marcato visita e siamo andati quello sicuro sicuro ecco quindi poi da lì magari vedere le corse dei cavalli poi tu avendoli in famiglia magari di famiglia con anche altri tipi hai cominciato quando sei salito per la prima volta su un cavallo dal trotto quando l'hai attaccato il primo mio cavallo che attaccai era la scuola di Vivaldo Scatolini loro era Urkan Dei Fab Urkan Dei Fab me lo ricordo cominciai a attaccarlo al tondino cavallo bravo sì sì bravissimo sono quelli cavalli spesso lo diciamo no? perché magari quando sali la prima volta su un cavallo poi dopo è difficile scendere ma sono quei cavalli magari anche bravi che ti aiutano perché ti fanno ancora piacere di più certo lo fa poi ti comincia t'affezione a quel cavallo da lì non scendi più bravo lo ricordo anche io perché mi con un diciamo un personaggio che vediamo spesso qua Enrico Fiaschi il gentleman passato super professionista grande appassionato e lui ad esempio io attaccai per la prima volta Ziguane che era un cavallo di Enrico che era un cavallo che sapeva che sapeva fare fare un po' tutto e quindi quando sali per la prima volta dopo è difficile sì dopo è difficile scendere ecco ovviamente poi hai cominciato a lavorare come artiere nella scuderia Scatolini Vivaldo e tutto poi dopo anche qua con Andrea ma quando hai pensato di fare magari il corso allievi perché ti piaceva la passione cioè ti piaceva guidare quando fai prove certo poi ti viene voglia anche di fare il salto bravissimo bravissimo tutto anche con l'aiuto da Andrea ti ha fatto da maestro ti ha insegnato tutto bravissimo bravissimo ecco visto che tu ovviamente hai guidato in corsa c'è una bella cioè tra far prove e la corsa vera e propria c'è un po' di differenza sì c'è più magari io magari prima di montare su una corsa un po' più importante c'è un po' d'agitazione poi dopo quando sono sopra non hai grossi non senti più sei abbastanza freddo però ecco la corsa ha qualche rispetto alle prove c'è un po' d'adrenalina perché ovviamente sei in mezzo sicuramente ti è capitato intanto vediamo un po' di foto del nostro archivio ringraziamo sempre anche perché tante foto sono fatte questo è Pepe Tav che è uno dei cavalli che sicuramente ti ha dato delle belle soddisfazioni tantissime ci vinsi il premio allievi a Milano Luigi Canzi Luigi Canzi che c'è ancora no il trofeo quello per gli allievi sì sì prima era batterie ora questo Urtab un altro cavallo eccezionale con i cavalli appunto è uno dei cavalli con cui insomma ti sei trovato ti sei trovato bene ecco ormai da quanti anni è che sei diventato hai fatto il corso allievi ormai i guidi anche se sei se sei un ragazzo direi molto giovane quanti anni sono ormai ora di preciso non lo so ma sono una quindicina quindi insomma hai trovato qualche cavallo dicevamo appunto Pepe Tav che ti ha dato delle soddisfazioni sei legato a qualche cavallo in particolare ora come ora Ethan ovviamente ma poi il Urtab mi ha dato delle soddisfazioni grandi tantissime una corsa magari c'è una corsa particolare poi parliamo di Ethan perché ovviamente Vittorius Man ne parlavamo con Andrea prima qui ci sono le foto appunto di Ethan che realizzate dall'ippodromo del Visarno che ringraziamo sempre perché ci concede anche queste splendide queste splendide immagini ci sono appunto Urtab di Azzura Vittorius Man ne parlavo anche prima con Andrea che sono dei cavalli che comunque i proprietari che sono anche quelli di Ethan ci hanno visto insomma siete riusciti a dargli una nuova una nuova carriera ti hanno dato insomma ci hai fatto delle belle vittorie c'è una corsa ti rimane più impressa che magari hai vinto forse il trofeo quello con Pepe Tav ma magari con Vittorius Man Urtab di Azzura hai fatto anche delle corse diciamo di una certa categoria certo anche quando vinci la Supertrice con Urtab sono belle soddisfazioni certo poi vincere anche la prima con Vittorius dopo tanto tempo che è stato un cavallo sfortunato hai avuto anche ora qualche problema è un po' che non corre tra un poco magari lo rivedremo lo rivedremo anche tu pensiamo di entra Montecatini ormai si aspetta l'apertura del Cesare bravo bravo quindi cavalli che ti hanno dato delle soddisfazioni ci sono ma arriviamo all'attualità perché sicuramente è un cavallo che ti sta facendo divertire e che sta dando delle belle facendo dei bei risultati è questo questo etan sì perché è un cavallo ancora da scoprire perché è un cavallo potente è un cavallo che da quando è arrivato da voi insomma siete riusciti a dargli ecco raccontaci un po' da quando è arrivato praticamente mi sembra se non sbaglio è maggio scorso la prima volta che avete corso insieme quindi sono passate quasi un anno dieci mesi ecco come l'hai quando è arrivato in scuderia cosa come è stato ecco cosa hai visto in lui cosa avete visto vi siete accorti subito che poteva essere un cavallo curioso anche la corsa prima che si prendesse noi sì fece 12 sempre l'ultimo chilometro arrivando al secondo ha dimostrato di avere mezzi poi ha una famiglia lui sono tutti da corsa cavalli da corsa cavalli discreti tipo Vesla fai gran premio sicuramente sicuramente la linea non manca insomma ci sono dal punto di vista genealogico ha fratelli con ottimi risultati cavallo un po' problematico di meccanica che siamo riusciti sistemare con Andrea sì poi siete insomma quasi subito avete fatto la sua prima vittoria è fatta a Montecatini all'ippodomo di casa abbiamo fatto una una Maiden dove eri in seconda fila se non sbaglio avevi il numero 9 hai fatto e lì c'è stata c'è stata poi la prima la prima la prima vittoria però ecco la striscia è stata incredibile perché comunque ha fatto praticamente 12 corse più o meno se non sbaglio 7 vittorie 2 2 piazzamenti 2 secondi posti e poi ci sono questi vabbè questi piccoli queste tre queste tre rotture ma anche l'ultima sarebbe stata un primo l'ultima è stata la recente la recente corsa di di etan a torino a 50 metri forse dal palo 100 metri ecco ecco in quei momenti Simone quando succede l'irreparabile cosa si prova sicuramente lì per lì ti sei accorto subito di cosa poteva essere succeduto te ne rendi conto subito ecco raccontaci cosa è successo me l'hai accennato in un metro ho fatto tutto che me l'hai accennato e si è sbottato il galop ci sei dato una spiegazione si per la pista ha sentito un po' la pista si ho sentito un po' la pista perché la pista dei giorni prima aveva piovuto si che aveva aveva un po' la sabbia e quindi poteva aver accusato un po' il sì essendo un cavallo di meccanica non semplicissima bravissima secondo te Ethan è un cavallo che comunque ha ancora margini di miglioramento sì perché corsa per corsa migliora anche non sono mai arrivato all'ultimo è arrivato sono sempre stato arrivato sempre con qualcosa ancora da quando fa 11 a Milano favo sempre del buono nel senso è un cavallo potente quindi potrebbe insomma fare facendo i debiti scongiuri potrebbe aspirare anche a qualche cosa un pochino più importante certo un po' di fortuna ci vuole sicuramente poi non è non è sempre facile entrare all'interno dei gran premi con i parametri bisogna fare un po' di cercare di trovare magari una corsa dove poter emergere e che ti possa dare un po' di possibilità di entrare nei gran premi è in un'impica di oggi come è difficile Simone farsi largo perché ci sono dei guidatori abbastanza non è facile difficilissimo anziché dei guidatori che ci sono in in voga che insomma professionisti ce ne sono tanti hai magari avuto un modello un'ispirazione sempre seguito magari qualche qualche guidatore per che ti piace come il suo stile di guida e che vorresti a cui vorresti rubare qualcosa qualche qualche dote avevo fatto anche sta domanda quando vinsi Luigi Ganzi te l'hanno fatta? si e mi disse se c'avevi un modello si e io dissi Andrechetti Roberto si perché lui era un grande si è sempre stato un guidatore che riusciva a interpretare un po' tutti i cavalli anche senza magari conoscerli a fondo era proprio il catch driver per eccellenza perché saliva su un cavallo e ne riusciva spesso a tirare a tirar fuori il meglio vero vero per un driver come te ci sono qualche magari qualche sogno qualche aspirazione particolare visto che insomma c'è ancora tanta carriera da fare pensi mai a qualcosa di qualche obiettivo che vorresti raggiungere nel senso se vincere anche un gran premio anche un gruppo tre ti piacerebbe ma andrebbe come a tutti penso nel senso sarebbe già tanto magari con con uno di tuoi con Ethan con Ethan Emanuele abbiamo qui Simone che se vuoi chiederti qualcosa è pronto è tutto è tutto tuo sì non mi sembra che sia un ragazzo che parla poco che parla tanto quindi non penso che sarà difficile tirargli fuori qualche eh no ma infatti è un ragazzo sì sì no ma non è uno è un timidone però è un ragazzo sempre sorridente sempre allegro quindi anzi lo ringrazio perché si è prestato per fare questa cosa andava un po' gli andava messa la briglia chiusa perché se no non si impegnava però ecco è un e quindi lo ringrazio perché comunque lui conosce bene Ethan è un cavallo che insomma si sta facendo vedere e volevo anche che lui ci dicesse qualcosa è giusto far vedere ogni tanto quello che gli sta dietro insieme poi lui lo guida anche però come lo sai è bene far vedere anche questi questi giovani ragazzi ma spesso viene poi alle capannelle penso che abbia una buona percentuale di vittorie Simone a capannelle ti trovi bene sulla pista romana proprio con Ethan mi ricordo almeno una bella vittoria certo certo ti piace sì come pista un'ottima pista secondo me poi i cavalli si trovano bene quindi insomma quando vai a Roma e c'è Emanuele è carico bravo grazie grazie Simone grazie grazie dove vai in trasferta prego 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 grazie a voi alla prossima stava parlando no pensavo di parlare perdonami eh eh ma lui se lo interrompi dice meglio non dico più niente vai forse la prossima sarà con Ethan di tornare a Roma attenzione Emanuele tu sei sempre uno col blocchetto quindi ricorda segnati che la prossima corsa di Ethan potrebbe essere a Roma potrebbe potrebbe stavanea insomma l'abbiamo visto un po' lavorare magari tra poco lo vedrai a Roma sì sì ma mi sembra che abbia un bel un buon programma tutto sommato non vince tantissimo quindi la corsa deve scegliere dove farla quello è importante trovare magari schivare qualche altro cavallo declassato quello è importante sono poche eh sì bisogna programmarlo bene vediamo un po' chi la trova questa corsa dagli una mano Mirko dagli una mano sentiamo il paverese se non è ancora battuto per i risultati sportivi magari gli do una mano io bravo bravo va bene Grazie a tutti